Un mistero lungo 44 anni, quello del sequestro, è il cronista del giornale Lora, Mauro De Mauro. Era la sera del 16 settembre del 70, quando in auto stava facendo rientro nella sua abitazione di Via delle Magnolie, ma De Mauro non fece mai ritorno a casa. Da allora diversi processi e molte testimonianze che non hanno portato a una verità. Numerose le ipotesi sul movente, la morte di Mattei, presidente dell'Eneo e il golpe borghese. Io ho visto che ci sono molti, ho letto molti giornalisti che sono intimiditi, prestati dalle mafie, dalla criminalità organizzata. Più che ricordo è l'obbligo di lottare contro la criminalità e contro la censura e l'autocensura. Così oggi Lunci, insieme al comune di Palermo e i familiari, lo hanno voluto ricordare deponendo una corona di fiori sul luogo del sequestro, con l'impegno da parte del sindaco della realizzazione di una targa a marmore entro il 2015. Dopo 44 anni si svolge una manifestazione a livello istituzionale, ve ne sono state delle altre negli anni passati, ma questa è la prima nel corso della quale proprio si timbra l'ufficialità di un cronista che ha dato veramente tanto per il nostro mestiere. Un cronista attento, scrupoloso, coraggioso. Diciamo che il giornalista di giudiziaria avverte un profondo senso di frustrazione perché dopo 44 anni non abbiamo ancora la verità. Abbiamo un processo che si è tenuto troppo tempo dopo e un solo imputato che è stato assolto. Credo che ci siano i margini per ricorrere in Cassazione, ma comunque la verità giudiziaria è difficile da trovare.